La dodicesima giornata nel massimo torneo di Fuzzal, venerdì impegnativo per Genzano e Pesaro, chiamate a scendere in campo in anticipo questa sera. La squadra laziale sarà ospite del Sandro Abbate Avellino, una sfida playoff per Barichello e compagni. Le antagoniste infatti sono appaiate a quota 18 in classifica generale. Un'uscita per il Genzano, Lolo Suazzo ha salutato il gruppo con la società che è pronta ad intervenire nuovamente sulla rosa. Gara casalinga alle 20.30 per l'Ital Service Pesaro di Fausto Scarpitti. I biancorossi ricevono il Saviatesta a Mantova, un'occasione propizia per ottenere la terza vittoria consecutiva e piombare nelle zone altissime della classifica. Al Pala Unimol il Cus Molise riceve il Città di Melilli, squadra in campo alle 15.30 in anticipo rispetto all'orario di gioco casalingo dei molisani per andare incontro alle esigenze logistiche della società siciliana. Calendario inclemente con i cussini, domani la sfida contro i terzi della classe, sabato prossimo la trasferta in casa del Manfredonia, capolista del girone B di A2 Elite. Detto questo, i soli tre punti in classifica impongono al team di San Gennario di cercare il risultato pieno in ogni gara. In programma, a prescindere dall'avversario, serve una svolta decisa, bisogna accorciare le distanze dal Canosa e dal Regalbuto, distanti 3 e 6 punti. La società è al lavoro per rinforzare la rosa alle dipendenze del coach campobassano. Il rientro del portiere Vinisius e l'arrivo del laterale Lucas Silva sono le prime operazioni. Al vaglio diversi profili, con la volontà di chiudere almeno un'operazione importante nel reparto offensivo, un giocatore in grado di mettere a segno quel bottino di reti utile per risalire la corrente. Nel torneo cadetto, lo Sporting Campobasso riceve il Casa Giove, alle 16 palestra Sturzo-Gremita, per sostenere la squadra campobassana alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il team campano occupa il secondo posto in classifica, una squadra forte che arriva nel capoluogo molisano con la chiara intenzione di portare a casa l'intera posta in palio. I soli due pareggi raccolti in otto giornate sono un bottino troppo amaro per lo Sporting. Chiaro che qualcosa non sta girando, tutti sono sotto la lente di ingrandimento, ma da queste situazioni si può venire fuori solo in un modo. Serve compattezza tra tutte le componenti per cambiare volto alla stagione. In presenza di un'unione di intenti siamo certi che arriverà quella tanto sospirata vittoria che serve più che mai per sbloccare la mente. Detto questo, non si segnalano operazioni in uscita ed in entrata, eccezione fatta per Pescolla che è tornato a dar manforte ai suoi ex compagni. La società non esclude la possibilità di intervenire sul mercato, ma questo discorso sarà affrontato solo all'indomani della sfida contro il Casa Giove.